Well I've heard there was a secret chord that David played and I please the Lord, but you don't really care for music, do you? Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Monfortano di Entratico in provincia di Bergamo ha fatto del Malawi la sua ragione di vita. Un vulcano di padre Mario che per aiutare l'ospedale di Balaca nel sud del paese ha messo su l'alleluia been. Cosa manca per questo ospedale? Cosa sarà questo ospedale? Il nostro ospedale che è chiamato Comfort Community Hospital, dalle parole di Esaia, Comfort, Comfort My People, che dà aiuto a circa 90.000 pazienti all'anno. Abbiamo 2.300 nascite in un anno. È dignità donata grazie a questo sostegno che viene dal cuore buono, che è il cuore stesso di Gesù. Quindi chiunque ama l'altro ama Dio e chi ama Dio ama l'altro. Il nostro ospedale per andare avanti ha bisogno del sostegno delle medicine. L'ospedale è divenuto nel tempo un centro di riferimento sanitario per l'intera regione, in particolare per coloro che non hanno mezzi ed in Malawi sono in tanti ad esserlo. Nel paese, il cuore caldo dell'Africa, lo stipendio medio di un lavoratore di 25 euro mensili. Malattie e carestie sono purtroppo drammi quotidiani. Con 20 milioni di abitanti, il Malawi è flagellato da tre anni dalla siccità che distrugge tutto. Malattie e carestie sono purtroppo drammi quotidiani. Loro ci insegnano di cantare la vita con gioia, danzare la vita con gioia. L'Africa in questi anni ha me insegnato due cose. Una, scegli tra festa o disperazione. E tre parole me le hanno insegnate loro. La vita, l'amore, la gioia. Scegli tra festa o disperazione. Grazie di meraviglia! In Cicewa, noi diciamo, tigawane. Condividiamo. E mi piace terminare con questa parola, la musica che è un linguaggio universale dell'amore ci deve unire tutti, colori, culture, lingue, abitudini diverse ma tutti e tutte figli e figlie di Dio in Gesù che è il nostro fratello maggiore. Alleluia